In questi giorni abbiamo raccontato tante storie, anche la storia di Alessandro, dove veramente si sta cercando di fare di tutto in queste ore, in questi minuti di follia, di tragedia, di guerra. La situazione di Maripol l'abbiamo anche detto prima, è veramente terribile, le notizie sono quelle di questi 400 stagi all'interno di un ospedale. Io ringrazio l'unità di crisi a Farnesina, che lavora 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno, che è in contatto in questi giorni, in queste settimane, con tutti quelli che si può tenere traccia della situazione, rispetto anche alle comunicazioni che sono totalmente saltate, come potete ben immaginare. E si cerca veramente di cercare delle soluzioni più sicure, spesso anche per dare una parola di conforto a queste persone che si trovano sotto le bombe. Allora, oggi il nostro ospite è Nicola Minasi, capo dell'unità di crisi a Farnesina. Grazie di essere qui. Allora, innanzitutto come vi state muovendo in queste ore? Ci stiamo muovendo con grandissima attenzione, ogni caso è assolutamente importante e anche unico, a seconda della posizione, del nucleo familiare, delle condizioni di ogni persona. Manteniamo contatti con tutti e facciamo delle verifiche continue, soprattutto sulla presenza che c'è ancora. Questo lo facciamo grazie a dei controlli sui registri di tutte le persone che si erano segnalate e soprattutto per noi è fondamentale mantenere il contatto col pubblico, anche con i familiari in Italia. Abbiamo utilizzato fin da subito un sito per noi fondamentale, si chiama dovessiamonelmondo.it, dove ogni persona può segnare su una mappa la propria abitazione. Questo si sta rivelando uno strumento assolutamente fondamentale per poter individuare tutti. Come si chiama questo sito? dovessiamonelmondo.it. Esiste da prima e per noi è fondamentale perché chiunque può darci una posizione, il numero di telefono, il telefono di un contatto in Italia e questo ci ha già aiutato molto a dare indicazioni molto precise ai connazionali sul terreno. Certo. Ecco, quanti sono i nostri connazionali lì adesso? Che dati avete, che numeri avete? Usiamo tantissimi mezzi e soprattutto controlliamo di continuo. In questo momento sappiamo che abbiamo 400 persone sparse un po' in tutto il paese. Questi sono i riscontri che abbiamo con delle verifiche quotidiane. Posso dire che in questi giorni stiamo anche vedendo che diverse persone riescono ad uscire, quindi il numero si abbassa continuamente. In alcune aree, per esempio, è ancora possibile utilizzare il treno per andare verso la Polonia. Sì, perché partono questi treni. Continuano a partire. Le ferrovie ucraine stanno facendo un lavoro enorme, organizzano treni gratuiti e questo permette a tantissima gente di uscire. In alcune aree questo non è possibile per motivi bellici, evidenti. Sono tutte le zone dove è totalmente saltata la comunicazione, però ad esempio non in alcune zone di Chievo, ad esempio, noi riusciamo a metterci in contatto con alcune storie e testimonianze da lì attraverso Skype? Assolutamente. È una situazione differenziata. L'area che citavo anche prima più difficile è quella di Mariupol, perché lì sono stati abbattuti i ripetitori della comunicazione fissa cellulare. Quindi là, per esempio, siamo costretti a delle triangolazioni con i familiari in Italia, che a loro volta hanno problemi per rimanere in contatto con i connazionali. Anche per questo è molto, molto importante e sono grato alla Caritas, alla Croce Rossa, a tutte quelle organizzazioni che ci permettono, anche con i riferimenti che hanno sul terreno, per aiutare chi non possiamo raggiungere direttamente. Infatti qui, poi ritornerai in studio, c'è il portavoce dell'Unicef, Jacomini, ci raccontava proprio questo, che loro cercano chiaramente di collaborare con voi, perché essendo lì, avendo anche delle sedi stabili, in tanti anni sono diventati praticamente dei presidi territoriali, anche per aiutare voi nelle comunicazioni, in quello chiaramente dove si può fare. Ripeto, dove si può fare. È vero che sono partiti con voglia adesso per cercare di rientrare delle persone? Ci sono varie iniziative, anche della protezione civile, della Croce Rossa, per persone in difficoltà. Parliamo per esempio dei disabili. C'è una missione in partenza della Croce Rossa, la protezione civile è già stata attiva. Noi seguiamo con particolare attenzione quei casi difficili di italiani, soprattutto minori, che non si possono muovere. Per fortuna molti di questi sono stati risolti positivamente. Ci sono voluti dei giorni interi per poter trovare un'uscita sicura, per trovare un passaggio, per seguirli strada facendo, ma abbiamo anche visto che può funzionare. Questi sono casi per noi estremamente sensibili e in questo ci incoraggia anche... Quali sono i casi più complessi che invece state seguendo? Qui abbiamo... A partire da anche quello di Alessandro che, insomma, fortunatamente gli hanno detto che la famiglia adesso sta... è viva. Sono vivi. Stanno dentro questo condominio che non è stato bombardato, che si trova vicino al teatro di Mario Pol. Ecco, quali sono i casi più complessi che state seguendo adesso? I casi più complessi sono ancora quelli dove ci sono dei minori, oppure persone che hanno bisogno di medicine. In alcuni casi dove c'era la possibilità di raggiungere direttamente o anche con degli aiuti sul terreno, sono state fatte arrivare delle medicine. Sicuramente lì dove non possiamo avere un contatto diretto e immediato abbiamo più difficoltà. Con tutti gli altri abbiamo contatti quotidiani. Ogni giorno facciamo centinaia di telefonate per raggiungere tutti e magari anche più di una volta al giorno e controllare gli sviluppi, qual è la situazione. Abbiamo anche un po' di preoccupazione per quelle persone che pur avendo avuto o avendo ancora la possibilità con relativa sicurezza di partire con dei convogli, non lo fanno. Questo ci preoccupa perché è dal 12 febbraio che abbiamo raccomandato agli italiani di lasciare il paese. E come sappiamo la guerra è iniziata il 24 febbraio. Quindi ci sono stati dei giorni importanti in cui sarebbe stato possibile mettersi al sicuro. E tuttora abbiamo insomma delle persone che esitano. Cioè voi avevate chiesto prima uscite perché la situazione è molto grave. Certo, è grave. Purtroppo diciamo molti vi hanno ascoltato, altri no, come ben sappiamo. E sono rimasti lì non pensando che sarebbe scoppiata questa guerra, sottovalutando diciamo il vostro appello. Ecco allora che messaggio possiamo dare, dottor Minasi, ai telespettatori che ci stanno ascoltando, ma soprattutto ai familiari che hanno parenti lì? Noi sicuramente continuiamo a lavorare al massimo per tutti. Controlliamo ogni possibilità. Stiamo lavorando molto intensamente. Questa è anche una indicazione chiarissima del Ministro Di Maio che segue continuamente le operazioni, anche con più riunioni al giorno. Stiamo cercando di lavorare con le Nazioni Unite, con l'Unione Europea, con tutte le organizzazioni internazionali, dalla Croce Rossa all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, per creare dei convogli sicuri, soprattutto dalle zone più difficili. Con tutti gli altri continuiamo a mantenere un contatto diretto. Siamo sempre felicissimi quando possiamo mettere qualcuno al sicuro, guidarlo, seguirlo durante il tragitto. A volte lo facciamo anche con la condivisione della posizione dal cellulare e seguiamo contemporaneamente tre o quattro convogli diversi. Non risparmieremo nessuna possibilità, continuiamo a lavorare giorno e notte. C'è una squadra intera di persone che ogni giorno dell'anno lavora, raccogliamo tutti i dati. Noi non ci fermiamo, faremo tutto il possibile per essere vicini. Tra l'altro visto che stanno portando questi convogli anche a Maripol, speriamo veramente che possano portare e riportare indietro i familiari. Sappiamo adesso dove si trovano perché hanno detto ad Alessandro che si trovano ancora dentro questa palazzina vicino al teatro per cui si ha una posizione. Ci sono tante altre persone lì perché sono riusciti attraverso un militare dell'esercito con una comunicazione satellitare perché purtroppo ben sappiamo che lì le comunicazioni non ci sono. Con una comunicazione di un militare sono riusciti a mettersi in contatto a dirgli dove si trovano. Allora l'ultima domanda le chiedo è come ci si muove con questa urgenza, soprattutto anche rispetto ai canali diplomatici che si sono attivati, si stanno attivando perché si sta cercando di fermare questa guerra. Certamente, c'è un grandissimo lavoro in corso. La gran parte dei tentativi adesso riguardano non solo l'aspetto diplomatico di una tregua per mettere fine alla guerra, ma anche di una tregua per realizzare i convogli umanitari che permettano di uscire dalle vere città. Ieri abbiamo avuto una buona notizia delle persone italiane da Mario Col sono riuscite a seguire dei convogli che sono stati realizzati. Però sul momento non siamo ancora arrivati al punto di avere un quadro internazionale chiaro, sicuro, dove tutti siano d'accordo per evitare di intracciare questi passaggi. E l'abbiamo visto in questi giorni, stiamo seguendo continuamente tutti i vari tentativi per valutarli. L'obiettivo quindi è continuare a lavorare su questo. Le Nazioni Unite sono il punto di eccellenza per organizzare questo tipo di intervento. Ci lavoriamo veramente in ogni momento, sia con i colleghi in Ucraina, sia con le altre rappresentanze. Immagino che non ci siano sicuramente momenti facili. Allora, io la ringrazio. Grazie Nicola Minasi, capo dell'Unità di Crisi della Farnesina. Grazie a voi. Buon lavoro, ovviamente per qualsiasi cosa noi ci siamo. So che siete anche in contatto con Alessandro, speriamo che uno di questi convogli possa, ripeto, come ha spiegato, si creano nel momento anche rispetto alle possibilità, però speriamo che uno di questi convogli possa portare veramente presto anche i familiari di Alessandro a casa. Allora, noi ci fermiamo solamente per 30 secondi. Alessandro rimani lì comunque con noi.